Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di frolla montata al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Ingredienti sono burro, zucchero semolato, uova, farina di tipo 0, cacao amaro in polvere, essenza di arancia e sale. Andiamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Iniziamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo il burro. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Adesso aggiungiamo le uova. e le facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il cacao amare in polvere, la farina, il pizzico di sale, e l'aroma d'arancia. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in una sacca a poche con il beccuccio a stella e andiamo a realizzare i biscotti. Adesso andremo a formare i biscotti che posizioneremo su un foglio di carta da forno. Adesso li cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti circa. I biscotti di frolla montata al cacao sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servirli. Biscotti di frolla montata al cacao, grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.